Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento consueto del mattino con l'informazione ovvero Occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno che come sempre comincia con il santo del giorno e lo vediamo con l'aiuto della grafica, eccolo qua, oggi è San Matteo e quindi facciamo gli auguri anche a tutti Matteo che ci ascoltano e che sono collegati con noi. Oggi è il 21 settembre, dicevamo il sole è sorto alle 6.54 e tramonterà 6 minuti dopo le ore 19, adesso il tempo. Anche questa mattina andiamo a vedere il tempo dal sito della protezione civile delle Marche, come vedete la situazione è questa, abbiamo precipitazioni sparse, anche caratteri di rovescio temporale in graduale attenuazione da nord nelle ore centrali della giornata, Le temperature saranno in diminuzione per domani, il 22 di settembre il cielo sarà poco nuvoloso anche con presenza di lievi velature, ancora temperature in discesa soprattutto quelle della notte. Poi giovedì 23 invece temperature in lieve aumento, il cielo sarà soleggiato con tempo buono anche per i prossimi giorni fino alla giornata di sabato con temperature in ulteriore lieve aumento. A fine rassegna stampa poi ci prenderemo qualche minuto fuori dal commento dei giornali per dialogare un po' insieme, anche se poi per dirvi alcune cose anche sullo sfogo di ieri mattina. Allora adesso andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, questa è l'edizione di Pesaro, scuola primi studenti in DAD, la DAD ormai sapete è l'acronimo didattica a distanza, quindi studenti costretti di nuovo a casa per la presenza di positivi in classe, a nemmeno una settimana dall'inizio delle elezioni alcuni liceali stanno seguendo appunto le elezioni da casa. Il preside Rossini dice l'importante però è riuscire a tenere i casi sotto controllo, le maestre intanto si riuniscono in assemblea, tutti a firmare per piada marina, è una mobilitazione a Pesaro contro l'abbattimento di questo chiosco che qualcuno appunto vorrebbe abbattere. Poi sulle infrastrutture della nostra regione, Giorgetti si è accorto di noi, bravo, allora ci aiuti. Il ministro Giorgetti al Micam ha evidenziato l'isolamento infrastrutturale della regione Marche, siete irraggiungibili ha detto, i big dell'economia da Merloni a Schiavoni, da Levato a Cesaroni hanno preso la palla al balzo per chiedere al governo un intervento diretto per risolvere una questione diventata quasi chimera, ma di queste infrastrutture ormai se ne parla davvero da decenni. A Urbino invece Ambera a processo, la mamma di Ismaele Lulli, giovane assassinato a Sant'Angelo in Vado alcuni anni fa, la mamma di Ismaele adesso chiede, non ha mai smesso anzi, di chiedere giustizia. Si tinde gli agenti invece a Pesaro della penitenziaria, noi soli e malati, mentre sempre da Pesaro gerbe, condomini vincono il ricorso contro il comune. Di taglio basso, sempre dalla prima del Corriere di Pesaro, la corsa al mattone frenata dalle troppe pratiche lumatica nel mercato immobiliare post-Covid, aumentano le compravendite, ci sono alcuni nodi da sciogliere, l'impasse burocratica e soprattutto il caro materie prime, cioè l'aumento delle materie prime per costruire. Le compravendite aumentano, ma ci sono dei nodi, come dicevamo, da sciogliere, la velocità delle pratiche, anzitutto quindi la burocrazia per poter accedere ai bonus delle ristrutturazioni e il tema del caro materie prime che sta influendo sui prezzi finale. Poi fanno città solo per auto, ancora pochi vanno e decidono di andare in bicicletta. Vediamo adesso invece il carlino di Pesaro. La fotonotizia è per Walter Scavolini, il patron dell'omonima azienda di Cucine e non solo. Scavolini a caccia di personale, dice colpa del reddito di cittadinanza, non troviamo per questo operai. Poi cinque donne truffate dal Gigolò, corteggiava vedove e persone separate, poi svuotava i loro conti correnti promettendo investimenti redditizi. Le altre notizie, il chiosco da rimuovere, caso Piedammarina, scatta la reazione, domani un flash mob. Poi dal monte, da uno di questi monte, adesso non so se è il Nerone o il Catria, lo vedremo nelle pagine interne, era sotto un tralicio, un'aquila reale che è stata trovata morta e purtroppo è rimasta folgorata, è andata contro un cavo evidentemente dell'energia. Lotta al Covid, vaccinazioni a Muraglia, Muraglia di Pesaro, da ieri le terze dosi, soprattutto alle persone fragili. Poi il PD all'attacco, manifestazioni Novax nel Mirino, assembramenti fuori controllo. Davanti al carcere, la manifestazione degli agenti, via la direttrice, sono le richieste degli agenti della Polizia Penitenziaria di Villa Fastigi di Pesaro. Poi la laurea Onoris Causa a Mancini, lunedì la festa per il commissario tecnico della Nazionale Tambone, svegliamoci o sarà dura. Lo sport con la WL potrebbe essere utilizzato nel ruolo di play, ma ci sono tante cose da sistemare. Poi, finalmente, partono il lavoro al cimitero, basta degrado, dopo un'attesa infinita, la prossima settimana apri il cantiere del Padiglione dei Fiori. Nelle pagine interne, il Corriere Adriatico, pagina 16, oltre 30 agenti in malattia per l'ansia e la depressione. I sindacati di Polizia Penitenziaria hanno manifestato davanti alla carcere ieri mattina, davanti alla casa circondariale di Villa Fastigi, presenti anche a Fratelli d'Italia, Lega e Udc. Una giovane aquila morta, fulgorata sul Nerone, quindi il monte del Nerone, ritrovamento nella zona che si inerpica fino al rifugio Corsini. Qui c'è stato appunto il ritrovamento di quest'aquila, l'autopsia con il direttore del CRAS, Angelo Giuliani. E' la quarta aquila che muore fulgorata nel Pesarese, scrive Veronica Angeletti. Tre sul massiccio del Nerone e una sull'Alpe della Luna nel comune di Borgo Pace. Polizia locale, siamo sulla cronaca di Fano del Carlino. 11 nuovi agenti, occhi puntati sul territorio. Questa è la fotografia di Rito con la comandante Rita Montagna, poi l'assessore Sara Cucchiarini, il sindaco Massimo Seri con i neoassunti, appunto, i neoassunti e che adesso saranno operativi nella città di Fano. Pronti vincitori del concorso? Il sindaco dice una risposta ai quartieri che chiedono attenzione. Con i nuovi innesti si raggiunge il numero di 50 vigili. La comandante dice però l'obiettivo è 60. Poi c'è un'altra vittima del Covid, un 72enne fanese, soffriva di altre patologie e non era vaccinato. Si è spento in ospedale, l'ospedale di Pesaro. La vittima si chiamava Alvaro Zenobi, era fanese ed abitava in centro storico, affetto da altre patologie, non vaccinato. Zenobi era ricoverato alcuni giorni nel reparto malattie infettive. Nonostante le cure intensive da parte del personale, l'uomo non è riuscito a superare le complicazioni della malattia. Malgrado, invece, sotto inquilina minaccia la padrona di casa, le avevano gettato la tv dalla finestra, protagoniste due donne di San Costanzo, siamo sempre nel Pesarese. La locataria voleva che l'affittuaria lasciasse l'appartamento. E qui c'è la storia raccontata da Elisabetta Rossi del resto del Carlino. Variazione di bilancio da 7 milioni di euro, 500 mila euro per i rondò salvavita, le nuove risorse miglioreranno decoro, verde, strutture sportive e strade a partire da Rosciano. Dunque 7 milioni di euro per migliorare la città di Fano. Tra queste risorse attinte dall'avanzo libero della spesa in conto capitale, il mezzo milione per la doppia rotatoria tra la fine di Via Campanella e l'abitato di Rosciano, dove soltanto pochi giorni fa è avvenuto un incidente mortale. Poi è la giornata dell'Alzheimer, Gazebo e Aima in piazza. Si celebra oggi la ventottesima giornata mondiale dell'Alzheimer, patologia che nel nostro territorio coinvolge 600 famiglie. Dunque oggi dalle 10 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.30 ci sarà questo punto di informazione che servirà anche per capire un po' meglio anche quali sono le esigenze di queste famiglie che sono alle prese con persone familiari malate appunto di Alzheimer. Sant'Arcangelo invece il restyling è entro due anni, base d'asta di 5,3 milioni di euro, la gara scade il 22 ottobre, primo lotto a novembre del 2022. Da Urbino invece, Ambera trappola per Ismaele. Domani il processo, sono le parole della mamma di Ismaele, Deborah Lulli. Ismaele è stato ucciso nel 2015 da Igli, Metta e Mario Mema, nei pressi della chiesa di San Martino in Selva Nera e Deborah è sempre la mamma di Ismaele, è sempre stata convinta che Ambera, la ragazzina che ha mandato il messaggio al figlio per dire vediamoci qua e quindi quel messaggio è un po' per lui, per lei, la mamma di Ismaele è sempre stato un messaggio trappola. Se lei non lo avesse mandato evidentemente forse le cose, ma con i secoli ma la storia non si fa mai. Dunque domani il processo che viene imputata all'ex finanzata appunto di Igli, oggi la mamma parla, la mamma Deborah Lulli, mio figlio sarebbe ancora qui con me e la sorellina, lei deve pagare come fanno già i suoi assassini. Ammesso il giudizio abbreviato, mi aspetto e voglio giustizia. Risarcimenti? No. Ancora dal Corriere Adriatico, il sindaco di Urbino Gambini conferma il coprifuoco, sale la protesta di tutti, esercenti, opposizioni, il consigliere regionale, rossi contro l'ordinanza. Dunque parliamo di quest'ordinanza che impone agli esercenti di chiudere una certa ora a Urbino per evitare schiamazzi, per evitare che i giovani, soprattutto universitari, facciano i bagordi fino a tarda notte. È un'ordinanza che evidentemente non va giù. Il discorso ruota sempre attorno ai soldi. Il dottor Mancio, lunedì al Sanzio, il rettore dell'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo Giorgio Calcagnini, conferirà lunedì 27 settembre la laurea magistrale onoris causa in Scienze dello Sport a Roberto Mancini, il CT della Nazione di Calcio, che terrà un Alexio Magistralis su leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale, e come costruire un team vincente nello sport. La cerimonia a partire dalle 16.30 al Teatro Sanzio. Ci sarà una diretta streaming sul sito della Università di Urbino. Anche il Carlino dedica mezza pagina nella cronaca locale a questo evento. Allori urbinati per il dottor Roberto Mancini. Il CT della Nazionale di Calcio riceverà la laurea in Scienze dello Sport. Cerimonia al Sanzio e diretta streaming. Non è stata una decisione estemporanea, la rinviamo da due anni, dice il Rettore. Poi, sempre dai quotidiani, da Senigallia sorpreso mentre cede l'Ascish, nei guai l'ex studente minorenne. La polizia ha fermato il baby spacciatore nei giardini Europa davanti al campus scolastico. A casa è stata trovata anche altra dose. Poi, dopo il volo dal balcone, il bimbo di nuovo a casa. È stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Questo bambino di quattro anni, caduto sabato scorso dal balcone. Il piccolo è tornato nella sua casa di Marzocca. I sanitari hanno riscontrato un politrauma, ma senza fratture e lozioni interne, come confermato dalla prognosi, che comunque è sempre stata una prognosi bassa. Alla elementare, invece, Don Milani, i primi casi di pidocchi. La dirigente ha scritto alle famiglie ricordando le norme di prevenzione. Da Iesi, invece, ubriaco, insulta e picchia la compagna, accoltellato dalla figliastra di 13 anni. Sciocca Iesi, la ragazzina difesa sua madre dalle violenze del convivente. L'uomo non è in pericolo di vita. E da Fabriano, invece, un furgone a zizzag sul viale, autista, ubriaco, è stato denunciato. Ancora dalla pagina dei giornali, sempre, questa volta torniamo sul Carlino, ci sono ancora fotografie di questa aquila folgorata dall'alta tensione sul Nerone. Guardate come è stato ridotto questo povero esemplare. Il giovane esemplare, forse uno di quelli nati quest'anno, ha toccato i fili che raggiungono il rifugio Corsini. Appello per isolare soprattutto i cavi. E poi Gambini, l'ordinanza per ora non si tocca. Bar chiusi a mezzanotte, confronto tra esercenti e primo cittadino, associazioni di categorie aperte al dialogo. Le ragioni che hanno spinto al provvedimento sono legate alle risse notturne fatte anche vicino a persone minorenne. E adesso apriamo invece la pagina dedicata alla pandemia. Non tutte le pagine, ma insomma. Partiamo dalla verità. Ogni tanto vi faccio vedere anche la verità, che è il giornale diretto da Maurizio Belpietro. Verità che, così come Fuori dal coro di Rete 4, sono i due canali, diciamo, un po' controcorrente. Diciamo veramente fuori dal coro. La verità è un quotidiano che si può trovare e acquistare a 1,50 euro, se non ricordo male. È un giornale molto ben fatto e comunque dà la possibilità di avere una visione diversa da quella che ci propongono invece i soliti giornaloni. Allora, il titolo d'apertura di oggi è A fare il badante chiameremo Speranza. Speranza ovviamente è il Ministro della Sanità. I geni del Green Pass hanno sottovalutato alcuni problemi. Tutto questo in previsione del 15 di ottobre, quando, sapete tutti, insomma, entrare in vigore questo decreto per cui negli ambienti di lavoro, privati, pubblici, eccetera, insomma, tutti i lavoratori dovranno, anche privati, singoli, partite IVA, eccetera, dovranno avere questo famoso Green Pass. Quindi o vaccino o tampone. A fare il badante però chiameremo Speranza. Perché? Circa un assistente familiare su due, scrive il giornale, non vuole sottoporsi all'iniezione. L'anziano, magari non autosufficiente, che l'ha assunta per avere i suoi servizi, dovrebbe controllarla e licenziarla qualora non fosse in regola, rimanendo dunque abbandonato. Ora, è una situazione, secondo voi, credibile questa? Si pone la domanda, che è una domanda basata su questioni pratiche, perché un conto è fare i decreti, un conto poi è vederli sulla pelle della gente. E non dimentichiamoci che ci sono 10 barra 12 milioni di italiani, di persone che hanno liberatamente deciso di non vaccinarsi, di non fare il vaccino. E quindi come risolveranno questi problemi? È un problema. E giustamente il giornale se lo pone. Poi c'è invece un'altra notizia che riguarda, sempre dalla prima pagina della verità, il flop a scuola usato per vaccinare i bimbi. C'è un'altra notizia che spaventa molto i genitori, anche quelli che si sono già vaccinati. Sapete, Pfizer ha detto, lo vedremo tra un istante, che sono pronti, negli Stati Uniti partiranno a brevissimo, tra qualche giorno sono sicuri e pronti i vaccini dai 5 anni in su. Il flop a scuola usato per vaccinare i bambini. Avevano giurato mai più dad, invece ci sono già migliaia di alunni praticamente a casa. Anziché fare mea culpa per non aver sistemato bus e istituti pollaio, accusano i piccoli che non si sono immunizzati. E Pfizer celebra il successo dei test tra i 5 e gli 11 anni. Questo è un po' quello che succede. Infatti l'annuncio, qui siamo sul resto del Carlino, l'annuncio Pfizer, ecco il baby vaccino, quasi a renderlo simpatico, magari ce lo proporranno anche con siringhe colorate, così da non spaventare. Ok, dei pediatri la politica però si divide. Può essere dato ai bimbi dai 5 anni in su, Meloni e Salvini contrari. La regione Lombardia invece annuncia, dice, noi siamo pronti. Anche Moderna lavora ad un siero per la fascia d'età 5-11 anni, test negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei. No al pass ed evoca a Schwitz, sospeso il preside di Ferrara, il Ministero dell'Istruzione ha anche avviato un procedimento disciplinare. Ancora dai giornali, scusate bevo perché queste sono cose che fanno perdere la salivazione. Abbiate pazienza. Allora, quanto costa, scrive il Corriere Adriatico oggi, quanto costa vivere senza fare il vaccino? Già il titolo, e qui il Corriere ogni giorno ci regala queste perle, un'altra volta ne avevamo stigmatizzato uno, di una violenza inaudita. Qui invece oggi, vedete come sottile, quanto costa vivere senza fare il vaccino? Come se il vaccino fosse l'unico modo per rimanere in vita in questo pianeta. Quanto costa vivere senza il vaccino? 480 euro al mese. Questo è un dato di fatto. Con i tamponi molecolari si allunga il tempo del test, ma lievita il costo. Il tampone rapido invece è la strada più semplice, ma per lavorare ne servono almeno 12. Ora, è chiaro che dal 15 di ottobre, quando il Green Pass sarà obbligatorio per accedere nei luoghi di lavoro, c'è un problema appunto per tutte queste persone, come dicevo, 10-12 milioni di persone forse scenderanno, perché adesso molti si stanno recando a vaccinare perché disperati, non sanno più come devono fare, quindi a torto collo si vanno a vaccinare. Ma comunque, qui il giornale oggi fa dei conti, dei conti molto semplici, i famosi conti della serva, come si dice. Le strade per i tamponi sono tre, con costi differenti, altissimi, per un dipendente con uno stipendio medio che dovrà impegnare dai 180 ai 480 euro al mese in test molecolari o antigenici che siano. Questo se i prezzi continueranno ad essere gli stessi nei laboratori privati delle marche. Ora, è inutile stare qui a fare adesso sul giornale, ma c'è poco da comprare il giornale, nel senso da leggere il giornale, nel senso che si fa due calcoli, li si fa, li avrete già fatti, tutti quelli che si pongono il problema, se lo stanno ponendo in tanti, appunto, hanno già fatto i conti. Il test è rapido, dura 48 ore, quello molecolare 72, ma quello molecolare costa 60 euro ogni botta, quindi è praticamente impossibile. E nessuno, nessuno della politica, ovviamente si è, no, se lo sono domandati, ma nessuno ha fatto nulla, nessuno ha mosso un dito, per calmirare, abbassare, rendere accessibile i tamponi. No, i tamponi gratis, che non si ha mai i tamponi gratis, perché i tamponi gratis rallentano la vaccinazione di massa. L'obbligo è vaccinare a tutti i costi, questo è l'obbligo, questo è quello a cui dobbiamo sottoporci, per cui tutte le altre strade sono vietate. badanti e colf, incubo, lavoro nero, impossibile controllare i green pass, perché chi è che è deputato, oltretutto, quindi cornuti e mazziati, verrebbe da dire, ma chi è che è deputato a controllare la propria badante o la propria colf, eccetera, eccetera, il datore di lavoro, ovvero il cittadino, quindi chi di voi ha a casa un badante, eccetera, siete voi che dovete controllare, perché se poi arriva un controllo che non verrà mai, perché ce ne sarà uno, è impossibile controllare 10 milioni di persone a partire dal 15 di ottobre, è praticamente impossibile, perché per ogni controllo ci vogliono almeno due agenti, due poliziotti, due carabinieri, insomma, i numeri non ci sono, chiaramente sono tutti metodi terroristici per spaventare la gente e invogliarla, anzi, obbligarla a vaccinarsi, a rendergli la vita impossibile, eccetera, eccetera, però poi al lato pratico è impossibile controllare e sarà sempre più impossibile controllare, perché poi ci sono persone che non andranno al lavoro, si metteranno in malattia, prenderanno le ferie, quelle che devono consumare, perché magari hanno fatto sempre le persone corrette e hanno sacrificato le ferie per continuare ad andare a lavorare e adesso questo è il ringraziamento. Voi andate in ferie, andate in malattia, prendete tutto quello che si può fare, cerchiamo e cercate di resistere fino al 31 di dicembre, poi quello che succederà lo sa solo il buon Dio, ma insomma, intanto, questo è qualcosa. Intanto i vaccini levano le tende ai tre centri territoriali dopo la chiusura del lab di Marotta, sono in procinto di interrompere il servizio anche a Pergola, Orciano, i calcinelli, perché non ci sono più le persone da vaccinare. Eppure c'è stata una ripresa, un fuoco di fiamma, potremmo dire, dopo le cose che si sono sentite dire, dopo questo decreto del 15, insomma, qualcosina si è mosso, ma poi si è rifermato tutto. Le prenotazioni erano ripartite dopo la flessione di agosto, ma per proseguire serve l'aiuto dell'Aso. Ok, allora, noi qui abbiamo terminato, abbiamo terminato la rassegna stampa. Allora, rassegna stampa finita, commento e giornali finito. Allora, adesso consentitemi di ringraziare, ringraziare tutte le persone che nella giornata di ieri, sin dal mattino presto, dopo la fine della diretta, fino a ieri sera tardi, hanno trovato un po' di tempo e neanche poco da dedicare e a scrivere email, messaggi e quant'altro spingendomi, chiedendomi di tenere duro. Ma non il semplice classico messaggio vai avanti, punto e basta. Ho ricevuto una marea, ma davvero tantissime email, messaggi articolati, scritti, propositivi, scritti anche bene, con un italiano perfetto, quindi di persone che hanno una cultura elevata e questa cosa mi ha davvero sorpreso moltissimo perché è un conto incontrare per strada l'anziano che ti saluta, ti ringrazia, ti dice, ti fa i complimenti e queste sono cose che fanno sempre piacere. Un conto è capire che invece dall'altra parte in questo momento siete tantissimi e ti rendi conto che sono tantissimi che la pensano come te, come me in questo momento e come tanti altri e che hanno bisogno di un punto di riferimento. Ora, io, lungi da me il voler essere un'icona, un punto di riferimento non sono adatto per questo tipo di cose, ma quando ti accorgi che dall'altra parte ci sono persone che soffrono nel vero senso della parola, che hanno perso il sonno, che non dormono più la notte, allora qui non conta più nulla nel Covid, nell'essere giornalista, conta essere una persona umana, un umano, un essere vivente che accoglie, che dà una mano, una parola di sostegno ad un'altra persona come te che in questo momento è in difficoltà. Perché di questo stiamo parlando, di persone in difficoltà. In altri paesi, sto leggendo, i Novaks o meglio i vaccinati combattono tra virgolette insieme ai non vaccinati per la libertà. Perché tutti quelli che mostrano il Green Pass con orgoglio perché così possono entrare al ristorante sappiano che voi al ristorante ci potevate andare anche prima liberamente e che quel Green Pass non è libertà, è una finta libertà, una finta percezione di libertà e che se continueremo così non ce lo toglieranno mai più quel Green Pass e servirà per fare anche la spesa. Il Green Pass sta dando soltanto una finta una finta percezione di sicurezza. Non cascateci, basta ragionare semplicemente. Ci sono tante persone che chiedono che cosa faremo adesso, cosa facciamo adesso non possono parlare con un medico non possono parlare con un prete non possono parlare con nessuno si sentono soli e allora via cercare a destra e a sinistra su Facebook nei siti per cercare una parola di sostegno cosa possiamo fare? Io non lo so cosa possiamo fare io so soltanto posso dire resistiamo proviamo a resistere provate a resistere chi ha fede preghi tanto ma proviamo a resistere vediamo quello che succederà fino al 31 di dicembre non potrà andare avanti per sempre questa storia chiaro è difficile non mancano i soldi ma non abbiamo una soluzione non ce l'ho io non ce l'ho quello che voglio dire è di svegliarsi un pochettino ma non vi sto dicendo di non andarvi a vaccinare ognuno faccia quello che vuole io non sono contro i vaccini l'ho sempre detto ognuno ragioni con la propria testa io ce l'ho con chi ci impone di fare certe scelte con chi ci limita nella libertà io voglio continuare ad essere il libero avrei tante cose da dirvi ma il tempo è tiranno ormai è finito io non mi fiedo più di questo stato lo dico perché quando ci dicono lo facciamo per il tuo bene lo facciamo per la tua salute cominciamo allora a togliere le tonnellate di sigarette che uccidono ogni giorno milioni e milioni di persone di cancro con tutto quello che ne comporta allora sarete più credibili allora crederò veramente che tu stato tieni alla mia salute altrimenti mi stai raccontando solo un sacco di bugie c'è la messa mettiamoci a pregare che è l'unica cosa che rimane forse da fare ci vediamo domani mattina scusate l'inquadratura Riccardo ci vediamo domani mattina alle 7.30 alle 7 del mattino arrivederci grazie a tutti 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 Grazie.